GALESANO Galesano, località ad un paio di chilometri di distanza da Dignano, possiede un'altrettanto antica e lunga tradizione d'amore verso la terra e gli ulivi. I suoi abitanti sono ben noti per la loro ottima cucina. Galesano possiede diversi monumenti culturali, come la chiesa di San Giusto, Basilica Romanica a tre navate con l'abside del IX secolo, la chiesa parrocchiale di San Rocco del 1613 e le chiesette di San Antonio e San Giuseppe del XV secolo. Questo paesino roccioso è noto dai tempi preistorici ed è interessante come nel Medioevo sia stato risparmiato dalle fatali pestilenze che hanno devastato l'Istria a quei tempi. Gli abitanti di Galesano vanno fieri del proprio vino, olio d'oliva e delle specialità gastronomiche come il prosciutto crudo, formaggio, vaccino e pecorino o la manestra. Tuttavia, uno spazio speciale nella cucina di Galesano rappresentano le lumache, o come le chiamano qui, ciocchi, che si accompagnano con la polenta, cibo che da queste parti veniva preparato ancora ai tempi dei romani. Questa specialità viene festeggiata il giorno di Ferragosto, quando viene organizzata la festa dei ciocchi. Nonostante i vari cambiamenti storici, la popolazione autoctona di Galesano è rimasta fedele al proprio dialetto istroromanzo e mantiene i propri costumi popolari, il caratteristico costume tradizionale, strumenti musicali, canti e danze.